Sinner, a breve si sapranno importanti novità sul suo futuro. Poco fa è arrivata la conferma. Una bella notizia per Sinner e anche per il tennis italiano. Oggi alle ore 19.30 infatti è previsto il sorteggio del tabellone di Parigi-Bersi. Si tratta dell'ultimo Master 1000 della stagione che si giocherà sul cemento indoor nella capitale francese dal 28 ottobre al 3 novembre. Sinner, reduce dalla vittoria del Six Kings Slam, numero uno del mondo e primo come testa di serie, guiderà il gruppo degli italiani con Musetti, Cobolli, Darderi e Arnaldi. Berrettini spera di entrare in tabellone e non ci sarà Djokovic che ha annunciato la sua assenza. E si potrebbe anche verificare un incrocio ad alti livelli con lo spagnolo Alcaraz. Il suo percorso potrebbe portare ad una settimana con uno tra Zverev o Medvedev. Mentre solo in finale potrebbe esserci l'incrocio con Carlos Alcaraz, numero due al mondo. Sinner sarà testa di serie come Musetti che potrebbe comunque ritrovarsi dalla stessa parte del tabellone. Ci sono altri italiani, Cobolli, Arnaldi e Darderi. E Berrettini spera in un forfè per entrare nel tabellone, essendo primo tra gli esclusi. Dopo le qualificazioni, le partite del tabellone principale inizieranno lunedì 28 ottobre con il primo turno. Si giocherà poi tutti i giorni fino a domenica 3 novembre, giorno della finale, che si terrà alle ore 15. Sarà un altro torneo glorioso per Sinner. Grazie. Grazie. Grazie.